700.000 euro di cartelle analizzate, 80 utenti raggiunti in quattro settimane. Sono questi i numeri del soccorso anti-equitalia che il Movimento 5 Stelle ha realizzato in maniera temporanea ad Avellino. Fatti concreti non parole, dice il deputato Carlo Sibili, a promotore dell'iniziativa. Siamo e saremo sempre al fianco dei cittadini. Proprio per questo motivo annuncia il punto di soccorso resterà in funzione una volta alla settimana chi ne avrà bisogno troverà degli esperti a loro disposizione. Renzi diceva Cucu, Equitalia non c'è più, noi diciamo Pla, Equitalia è ancora qua per rispondere a queste chiacchiere da bar perché di fatto Equitalia vive ed è ancora più forte se vogliamo perché fondendola in l'agenzia delle entrate invece di fare un'operazione di trasparenza, di fisco, di umanizzazione del fisco di andare incontro al cittadino si è data la possibilità di guidare adesso anche di entrare nei propri contri correnti, quindi si è aumentato il potere che ha questo ente. Noi chiaramente saremo a visitare sulle situazioni perché ci sono diverse difficoltà in questo cambio, non è così semplice come ce l'hanno fatta credere e quindi chiaramente noi diciamo semplicemente il messaggio che vogliamo andare alle persone è che noi dopo questa esperienza abbiamo deciso di mantenere attivo permanentemente, quindi tutti i lunedì su appuntamento chiaramente che è possibile richiedere tramite mail o numero di telefono dedicato potranno avere finalmente un aiuto diretto e chiaro da parte della politica che finalmente non si mette in disparte ma fa la parte delle o.